Salve, salve da Marco Calabro, per conto di Amaci Casa Italia. Ci troviamo oggi qua su Incarico di Epumo per vedere un occhiale di Milano Living Luxury. Vediamo innanzitutto, prima dell'occhiale, il contenitore. Eccolo qua. Il contenitore è gradevole, piacevole perché ha una calamita di chiusura. L'interno è vellutato. Ecco, la chiusura è molto facile, molto funzionale. E vediamo che ha una struttura triangolare. L'occhiale, come abbiamo detto, è un Milano Living Luxury. La prima cosa che andiamo a vedere sono le certificazioni sull'occhiale. L'occhiale ha una serie di certificazioni. La prima è la protezione casco, che è un argomento estremamente importante perché copre l'occhiale da furto, rapina, orto, rottura e perdita. L'occhiale ha acquistato, attenzione. Quindi il prodotto, nel momento in cui subisce uno di questi problemi, il prodotto viene cambiato da Milano Living Luxury. E poi un altro discorso importante è la difesa dai raggi ultravioletti. Il livello di protezione dei filtri organici di Milano Living Luxury è molto elevato. E questo qua, grazie a un sistema di filtraggio che è stato estremamente curato da parte dell'azienda. La terza etichetta riguarda proprio questi filtri, che sono superleggeri, che per loro stessa caratteristica hanno un peso estremamente contenuto. E l'ultima etichetta che vediamo è quella là con il prezzo. In questo caso parliamo di 127 euro. Riponiamo tutte le etichette, andiamo a vedere l'occhiale. L'occhiale è il modello 242. La prima caratteristica, eccola qua sul lato, sicuramente è questa congiunzione che parte nella stecca, parte nella struttura dell'occhiale. Questa congiunzione che sicuramente lo personalizza notevolmente. Un'altra caratteristica è l'ampiezza delle lenti, che è sicuramente notevole e consente quindi una protezione da più lati dai raggi solari. Il livello poi di protezione dei raggi solari, dei filtri organici Milano Live Luxury molto alto. Consideriamo che questo prodotto del 242 ha una lieve sfumatura sulla lente. Vediamo che ha sicuramente una tendenza femminile il prodotto perché ha questa parte che tende ad alzarsi, ricordando alcune sopracciglia proprio femminili. Vediamo un'altra caratteristica che è la caratteristica dell'elasticità della struttura. Vediamo che la struttura è molto elastica e questo contribuisce ad adattarla favorevolmente a tutti i tipi di occhiali, scusate, a tutti i tipi di volti, a tutti i tipi di visi perché evidentemente si può adeguare facilmente alla grandezza del volto. Il prodotto infine dobbiamo dire che è un categoria 3 perché vediamo che ha questo sistema di filtraggio 400 contro i raggi ultravioletti. Stavamo parlando del Milano Live in Luxury 242, articolo 242. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia. Arrivederci al prossimo video.